salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi ci andiamo ad aprire questi tre pacchetti di calciatori panini 2020 2021 cominciamo dal primo non ve li avevo ancora portati e quindi mi sono sbrigato ad andare in edicola a comprare i primi tre pacchetti di quella che credo sarà una lunga serie allora spostiamo questi pacchetti e andiamo a vedere allora abbiamo questo tristi di giocatori del cittadello poi tristi di giocatori della salernitana per la nazionale cantanti abbiamo rocco hunt rafael toloi dell'atalanta e lo stemma bellissimo del cagliari molto molto belli questi stemmini qui il codice per il concorso ragazzi ve lo regalo e andiamo ad aprire il secondo pacchetto come vi sembra a voi quest'anno l'album ragazzi scrivetemelo nei commenti che sono curioso ci sono stati pareri contrastanti quest'anno sull'album allora tristi di giocatori del pescara no scusate della spalla poi combulla della s roma spezia per i film del campionato prima gioia quindi il gol di galabinov che ha segnato il primo gol in serie a per lo spezia federico fazio che quest'anno credo non abbia giocato neanche un minuto in serie clavan del cagliari infine il codicino terzo ed ultimo pacchetto ragazzi mi raccomando ragazzi importantissimo lasciate un bel like di supporto a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanella allora luca pellegrini del genoa maglia del cagliari quindi abbiamo trovato sia maglia che lo stemma eccolo qui poi abbiamo tristi di giocatori del brescia calcio o bellissimo bellissimo era ora lo stemma della roma qua sempre freddo ragazzi e infine mamma mia come funziona scusate qui mi mettete lo stemma della roma e sotto un laziale ma come farò finta di non aver visto bene ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like da valerio è davvero tutto vi abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video